Il campo repubblicano esce lievemente rafforzato dal dibattito tra i candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti, il democratico Tim Cain e il repubblicano Mike Pence. Entrambi erano scesi in campo armati fino ai denti in difesa dei leader con cui corrono in ticket Hillary Clinton e Donald Trump. Cain ha attaccato per primo ed ha continuato a farlo per tutti i 90 minuti del duello, mentre Pence ha mostrato di sapere mantenere la calma anche davanti a interruzioni continue. Il dibattito vicepresidenziale non ha visto un vincitore per K.O., ma il governatore repubblicano dell'Indiana Mike Pence si è imposto ai punti. Questa è la sensazione più diffusa tra gli analisti del giorno dopo. Il senatore democratico della Virginia Tim Cain ha avuto momenti di forza anche piuttosto aggressivo per uno che rappresenta il ticket in vantaggio nei sondaggi. Il problema per i repubblicani è che Pence si è dimostrato tutto ciò che il suo leader Trump non è stato nel corso del dibattito con Hillary Clinton. Pence si è mostrato calmo, competente e coerente. Trump, a cui non piace perdere la scena, verrà comparato non solo con la Clinton, ma anche con il suo stesso candidato vicepresidente. E Pence può avere gettato le basi per la sua futura campagna nel 2020.